Innanzitutto devono trovare una mediazione loro due, poi la cosa molto interessante che Grillo ha detto è anche il fatto che poi comunque questo Statuto e questa mediazione che loro eventualmente troveranno dovrà esserci, su questo dovrà esserci un confronto, un dibattito con i gruppi parlamentari Ma si aspettava questo Grillo contro Conte? Aspetti un attimo ragazzo È un po' un Kramer contro Kramer Quando conosco Grillo queste esternazioni le fa sempre in maniera molto ragionata queste esternazioni politiche Quindi secondo me... Ma è vero che Conte deve capire un po' meglio il movimento come dice Grillo? Le cose chiare sono civile d'agenzia e sono vere Le condivide, le condivide Che nomi avranno i ruoli? Segretario, Presidente, Elevato, Genitore 1, Genitore 2 Grazie